Ben tornato, Sir Nicholas. Grazie. Buonasera, Sir Nicholas. Buonasera. Che piacere rivederla. Grazie. Salve. Hermione, ben tornata. Grazie, Sir Nicholas. Harry, c'è Hermione. Ben tornata, Hermione. Sono così contenta. Congratulazioni, è incredibile. Avete risolto tutto. Tu ci hai dato un aiuto notevole. Non ce l'avremmo fatta senza di te. Grazie. Potrei avere la vostra attenzione.